Ho trovato un po' penosa queste continue polemiche sulle regole, questa grande partecipazione credo chiude qualunque ragionamento di polemiche di questi giorni, è stata la dimostrazione che così facendo invece con questa grande presenza, grande partecipazione, le regole molto chiare, la legittimazione è piena e totale, sarà fortissimo il candidato premier che uscirà da queste...